Parliamo di questa festa del primo maggio? Il senatore Salvatore di Benedetto è stato un ruolo importante a livello nazionale che è il senatore Salvatore di Benedetto con la moglie Vittoria Giunti, infatti poi alla fine della manifestazione del corteo sindacale dedicheremo e inditoleremo una parte della piazza Progresso proprio al senatore Salvatore di Benedetto e a Vittoria Giunti in ricordo di due partigiani raffadalesi che hanno lottato per la libertà, la pace e la democrazia del nostro Paese. Grazie.